Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle Shots Open Run, delle cuffie a conduzione ossea pensate per chi corre, chi fa trail, chi fa bici, adesso lo vedremo, che mi sono piaciute veramente tanto, di cui vi porto la recensione, perciò iniziamo il video. Innanzitutto c'è da fare una precisazione. Il brand Shots, prima si chiamava After Shots, ha fatto un rebranding, adesso si chiama Solo Shots, e queste Open Run sono la versione praticamente uguale di quelle che prima erano le Shots Aeropex. Infatti se le doveste comprare può capitare che vi arrivino le After Shots Aeropex piuttosto che le Shots Open Run. Tra le due non cambia praticamente nulla, è solo semplicemente che stanno facendo fuori le scorte da magazzino e poi inizieranno ad arrivare le Shots Open Run. Detto ciò, iniziamo con i punti a favore di queste cuffie che mi sono piaciute. Innanzitutto, beh, la conduzione ossea. È una tecnologia molto particolare. Come funziona? Noi all'interno dell'orecchio abbiamo tutte le ossicine che compongono il nostro timpano dove andiamo ad ascoltare e normalmente quando noi sentiamo la nostra voce perché le onde sonore che arrivano dalla voce di qualcuno entrano nel nostro orecchio e ci fanno vibrare queste ossicine. Queste funzionano allo stesso modo, però invece di fare entrare le onde sonore dall'orecchio, queste si appoggiano direttamente dall'orecchio e fanno vibrare questi ossicini. Quindi noi andremo a sentire, proprio come se sentissimo parlare ad un'altra persona, però potendo ascoltare anche i rumori all'esterno perché naturalmente allo stesso momento possono entrare anche i rumori dell'esterno. È una sensazione un po' strana, soprattutto all'inizio perché non siamo abituati a mettere sulle cuffie e non sentire i rumori esterni. In questo caso noi andremo a sentire anche i rumori esterni e è un po' strano. Ma per quanto riguarda poi la vibrazione in sé della cuffia non dà nessun problema, soprattutto queste di ottava generazione diciamo che si inizia a sentire vibrare la cuffia solo quando alziamo il volume proprio al massimo, 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 che può dare anche fastidio in quel caso perché è un volume veramente forte al massimo. Però se utilizzato diciamo in un range tra il 40 e il 60% ma anche il 70% non si sente per nulla vibrare. Questa ottava generazione di conduzione ossea mi è piaciuta veramente tanto. Secondo punto a favore, la costruzione. Sono delle cuffie molto semplici da utilizzare veramente molto leggere. Io le ho utilizzate anche per 3-4 ore addosso e non mi è andato nessun tipo di problema. Anche a lungo andare questa costruzione non tende a far pesare sull'orecchio e via dicendo. Avendo questo archetto che unisce le due parti, Shots ha ben pensato di fare due taglie proprio per fare in modo che si adattino meglio alla grandezza del cranio di ognuno e devo dire che taglia S e taglia L, io ho la L e mi ci sono trovato molto bene. Oltretutto abbiamo anche dei pulsanti fisici posti alcuni qua sulla destra e uno sulla sinistra. Quelli sulla destra ci permettono di poter andare ad alzare abbassare il volume e quello sulla sinistra invece è un pulsante solo che ci permette di rispondere alle chiamate, mettere giù, saltare tra le varie canzoni. Diciamo che i comandi non sono touch, questo mi piace. Essendo tattili si riescono ad utilizzare veramente molto bene. Terzo punto, la batteria. Queste qua, in particolare le open run, arrivano a 8 ore di riproduzione continue. Sinceramente a me queste 8 ore sono bastate senza tanti problemi perché comunque anche facendo magari gare lunghe di trail running, stare per 8 ore con la musica io mi stanco. Quindi molte volte tendo magari a fare 2 ore sì, 2 ore no. Quindi per me le 8 ore sono state più che sufficienti. Se per voi sono poche c'è la versione Pro che dovrebbe arrivare attorno alle 10 ore. Quindi decidete voi. Sempre per quanto riguarda la batteria, parlando di ricarica, abbiamo un connettore magnetico sproprietario, lo standard proprietario non è una USB-C, però si caricano velocemente, nessun problema. Hanno anche la ricarica rapida, quindi nessun problema. A livello di ascolto, di qualità del suono, mi sono piaciute. Si sentono bene i bassi, anche gli alti. È comunque un suono molto avvolgente. Si sentono molto bene i dettagli delle canzoni, quindi anche dal punto di vista proprio di qualità sonora io sono andato a promuoverle. Un'unica cosa per quanto riguarda la qualità sonora, naturalmente, se passiamo vicino a dei rumori, quali possono essere magari dei tagliaerba, dei lavori, magari in strada, eccetera, non sentiremo più nulla e dovremo alzare obbligatoriamente il volume. Se vogliamo invece sempre sentire, quindi andare a eliminare l'ingresso dei suoni dell'esterno nelle nostre orecchie, Shots ci dà in confezione anche due tappi per l'orecchia, proprio per poterci isolare dal mondo esterno. Inoltre, queste cuffie sono anche impermeabili. Hanno un'impermeabilità certificata IP67. Questo non vuol dire che potremo utilizzarle in piscina, nell'acqua, perché per quello c'è un modello a parte, ma vuol dire che se ci sudiamo non andremo a inficiare sull'utilizzo di queste cuffie, alla lunga non andranno a ossidarsi, a rovinarsi, e volendo possiamo anche magari lavarle un pochino sotto l'acqua senza tanti problemi. Però, come dicevo, non vanno utilizzate in piscina o mare. Infine, per quanto riguarda la stabilità, io le ho utilizzate correndo, facendo ciclismo, trail running, e non mi hanno mai, mai dato problemi. Anche correndo in discesa, su discese particolarmente difficili e incasinate, non mi mi hanno dato nessun tipo di problema. Davvero, restano attaccate all'orecchio molto molto bene. Perciò, tiriamo le conclusioni. Ve le consiglio, assolutamente sì, soprattutto questo modello Open Run, che costa sui 140 euro, se non ricordo male. È un modello veramente strategico, che può aiutare tantissimo chi corre, soprattutto anche chi va in bici, perché comunque chi va in bici deve sentire le macchine che arrivano da dietro e poter sentire le macchine, sentire la musica, vi assicuro, vi dà sia sicurezza, che comfort nel poter ascoltare, proprio aumenta quello che è il piacere di andare in bici. Io non posso fare altro che consigliarvele, perché mi ci sono trovato veramente bene. Non penso che prenderei le Pro, perché costano di più, hanno solo un po' di batteria in più, più qualche piccolezza, ma nulla di che. Penso che resterei su queste Open Run, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Poi naturalmente fate voi. Detto ciò ragazzi, nella speranza sia stato esauriente e esauristivo anche per questo video, vi ringrazio per l'ho guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao!